Parlami di Alberto, pochi giorni e questo momento così di ricordo di Alberto sarà una realtà. Vuoi darci qualche anticipazione di come si svilupperà, insomma, quali ricordi emergeranno? Sì, ci sono delle testimonianze, tra cui quella di un suo ex alunno che dice che Alberto era attentissimo ai ragazzi, per cui siccome lui aveva la passione del ciclismo e gareggiava, Alberto tutte le volte che lo vedeva si informava sugli allenamenti, su come era andata la gara a cui aveva appena partecipato. E l'altro aneddoto è che quando arrivava in treno a Vernazza da Spezia e i ragazzi stavano giocando a pallone, lui non mancava pur col clergyman di partecipare, oppure se aveva fretta di andare a celebrare, almeno un calcio alla palla lo dava. Ecco Anna, quindi questo è un attaccamento e un'attenzione particolare verso i giovani, ci sono altri aneddoti che riguardano Piazza Brin, che riguardano la Casa del Clero, ma li scopriremo quella sera. Un incontro che si svolgerà dove? Dunque, alla Sala Beghi, il venerdì alle 17.45, sarà presente anche Sua Eccellenza il Vescovo. Ecco Anna, un incontro che non è riservato solo agli amici del Centro Culturale Don Alberto Zanini. Certo, perché, non so, non è perché io e io eravamo amicissimi, però è uno che vale la pena conoscerlo. Anna, un'occasione per riproporre anche due libri che parlano di Alberto. Uno è quello che ha fatto il professor Pierluigi Castagneto, cronaca di una nascita Don Alberto Zanini. E l'altro è per rifare un popolo a Dio che era già stato editato tempo fa, di Ubaldo Casotto.